Atalanta maledetta Lisbona, tanta sfortuna, tre pali, miracoli, gol annullati, di tutto e di più non vince, strappa un pareggio che in teoria è ottimo, visto quello che è successo in campo è molto molto poco perché poteva tranquillamente chiuderla già qui, già oggi, già stasera per quello che ha creato e invece comunque a Bergamo se la giocherà. Ma certo è che ovviamente giocarsela in questo modo è molto molto positivo perché lo sporting esattamente come era stato domato in autunno è stato domato anche oggi però sapete com'è no? Una partita europea può accadere qualsiasi cosa, parte favorita sia perché è più forte secondo me che perché ha dato l'impressione di essere superiore che perché gioca in casa però con la dovuta attenzione ecco va affrontata questa gara e soprattutto in un periodo così intenso come il calendario era molto importante comunque mettere quantomeno un mattoncino ecco sul muro del passaggio del turno però prima di parlarne iscrivetevi, like e commento qui sotto e seguitemi anche sugli altri social che è fondamentale, link in bio, quali altri social? TikTok ed Instagram, molto molto facile. Detto ciò, allora vi ripeto tanta sfortuna, veramente una sfortuna in mane, in mane. L'Atalanta prende tre pali, ne prende due in letteralmente un minuto, un palo interno, un bel palo da lontano. Il portiere a fine primo tempo dello Sporting fa un miracolo pazzesco su un colpo di testa e il Bilal Touré segna il gol viene annullato. Lukman ubriaca la difesa, salta tutti, la tira bene sul primo palo, palo, c'è veramente una sfortuna incredibile. Anche lo Sporting, ne prende uno, dire il vero, però certo lo Sporting già è tanto, già è tanto che abbia fatto un gol. L'Atalanta ne poteva fare tranquillamente 3-4 ma proprio easy, è in scioltezza e invece ne fa soltanto uno. Torna a segnare Scamacca che comunque è molto importante secondo me, è molto importante per lui e per l'Atalanta e anche per l'Italia se vogliamo dire la tutta perché secondo me è il centravanti che dovrà giocare l'europeo immobile con tutto rispetto, no, no, Scamacca è quello su cui diciamo quello verso il quale ripongo la maggior fiducia, certo è che deve ritrovare anche un po' la forma perché fra infortuni e prestazioni così e così non sta giocando bene, certo è che comunque per me Scamacca se sta in forma è il più forte a mani basse che abbiamo in nazionale. Oggi è stato glaciale sotto porta, questo mi è piaciuto perché magari uno così che non segnava da 40 giorni praticamente che stava giocando male, molte critiche, hai una palla così invitante ti viene lo schiribizzo di prendere e calciare subito e invece no, Scamacca comunque se la sistema, dribbling se la giusta e poi palla in porta all'angolino. Gol perfetto in una situazione nella quale comunque era molto facile farsi prendere dall'ansia e dal calcio facile, ecco, dal tirare subito in porta. Invece Scamacca con calma l'ha messa bene. L'Atalanta ha un calendario fittissimo, non ve lo dico oggi per la prima volta, ha giocato a San Siro con l'Inter, a San Siro con il Milan ancora prima, poi con l'Inter, poi ha giocato col Bologna, poi ha giocato oggi a Lisbona, avrà a breve la Coppa Italia, altri big match, a domenica la Juventus, c'è veramente un calendario terribile, terribile da qua a un mese, alla settimana successiva a Pasqua, coppe permettendo, vedremo un po' anche come andranno le coppe, quindi è molto complicato che comunque regga il ritmo avuto negli ultimi mesi da qua in avanti, diciamo da Natale fino a fine febbraio, difficile che lo regga anche a marzo e i primi d'aprile, tutto è possibile ovviamente, è per me la squadra più forte di quelle che stanno lottando per il quarto posto, ma perché vi dico che secondo me non ci arriverà la fine quarta? Perché banalmente penso andrà avanti in Europa League, quindi penso batterà lo Sporting, secondo me il passaggio è alla portata, non è facile, vi ripeto, occhio a sottovalutarli perché comunque nonostante oggi sia stata manifesta la superiorità dell'Atalanta, occhio a prendere sotto gamba questa squadra qui che comunque di partite europee ne gioca tante all'anno che è lo Sporting, però penso passeranno alla fine, e quindi passando, aggiungendo altre partite, altri minuti nelle gambe a un calendario così fitto in cui da qualche parte comunque diciamo l'acqua deve perdere, perché fra Coppa Italia, campionato ed Europa League non hanno la rosa del Real Madrid così profonda da poterle giocare tutte quante ad alti livelli e ad alto ritmo, da qualche parte andranno un po' diciamo in maniera deficitaria, ecco penso che comunque il campionato ne risentirà, e col Bologna che viaggia con una partita settimana velocissimo, con la Lazio che per me si rifarà sotto senza le coppe, con la Roma che sta andando forte, secondo me l'Atalanta quarta non ci arriverà, però occhio perché comunque in Europa League potrebbe fare molto 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 bene, e non vedo tante squadre contro le quali l'Atalanta partirebbe sfavorita, e anzi ad oggi secondo me il Liverpool, il Leverkusen, stop, stop. E con questo passo e chiudo, iscrivetevi, like e commento qui sotto e seguitemi che è fondamentale anche sui altri social. Ciao ragazzi!